Ciao a tutti da Saridore, bentornati su Spyro, il primo, l'indimenticabile, l'indiscusso, l'assoluto Allora, in questo episodio ci faremo passo scuro, un livello abbastanza semplice, apparentemente semplice ma tutto questo non mi impedirà di morirci come un perfetto cretino, ma non aggiungo altro, buona visione Ciao Speruccio e ciao Sparks, si, ciao anche a ti, ciao, fai ciao con la zampetta, e salute, mettiti la zampa davanti per favore Allora, eccoci di nuovo qui su Tessi Sogni, a quanto pare sì Ok Speruccio, vediamo di fare qualcosa, tipo così e così e così anche Devi morire eh, oh, e anche te Allora, vediamo di fare qualcosa, abbiamo dei mondi da fare, da esplorare e casualmente ne abbiamo uno qui A quanto pare sì, petacca arrivo, vabbè, tacca, eh sì, volevo prendermi lo scemo Ok, fungo, trifolato, grazie, ecco, ok, qui abbiamo passo oscuro Lanciamoci in questo, dai, vediamo cosa ci aspetta Ok, siamo arrivati, Speruccio, ah, non fai il carpiato Ah, a quanto pare no, un atterraggio semplice Ok, iniziamo subito con due, ok, vabbè, vabbè, ma io mi guardo attorno perché ti conosco, gioco Allora, Spyro, vedo che siamo tanto alti e ci caderemo giù chissà quante volte Ok, eh, sì, è certo Ok, mi so tanto che dovremo attendere Ah, ah, ho capito, ho capito, ahia, bastarda Ah, ah, ok, vedi Cosa fai, c'è Non la, non la possiamo distruggere quella, vabbè, pazienza Ok, andiamo avanti, vediamo un pochettino Cosa ci aspetta, cosa fai, brutto cane schifoso Ah, ok, ah, ah, guarda che caro Ok, questa la dobbiamo prendere a testate Me lo ero scordato Ah, sì, Sparks, sei messo come al solito Malissimo Ok, Spyro, raccattiamo tipo tutto, andiamo su di sopra No, andiamo su di sopra, vediamo un po' là Vedi che c'era ancora un pezzo qua Dove ci porta sto cunicolo? Siamo tornati indietro, ok, perfetto Abbiamo fatto il giro rotondo? Sì, assolutamente sì Ok, andiamo fino di sopra, vediamo cosa c'è Un dracco Ok, vabbè, prima raccolgo E prima ti faccio fuori Ho detto che Ti posso fare fuori, grazie Uh, vite Vita, 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 vita Che Sparks ne ha tantissimo di bisogno Prese tutte? Credo di sì Ok, torniamoci dal nostro draghetto Vediamo cosa dice Ciao Ciao, Rosiglia Credo che si pronunci così, non lo so, minchia I nemici qui sono spaventosi Ma è ai babbei che devi badare Preferisco arrostirli, vabbè Ora sì che mi piaci Ok, sì, lo avevo intuito purtroppo Ok, punto di salvataggio sblocchetto Ok, allora Ah, eccolo Però io aspetterei un attimo che me lo trasformi Si muovi? No, non si muove Non si muove Ma hai pazienza, facciamo così Che problema c'è? Ok, qua è problematica È problematica Ma entro un certo limite Ok, abbiamo raccattato tutto? Credo di sì Eh Sì Cosa fai? Ah, ma sputa fiamme Bastardellus Allora, su c'è un altro drago Quello c'è qualcuno che ci tira Eh, aspettiamo Attendiamo Eh sì, che mi faccio prendere Da voi Come abbiamo fatto evitarlo? Non ne ho la più palida idea Eh, Spart Che si è messo agli atti Abbiamo un altro drago? Ok Ciao Munghia Ciao a zizi Minchia, che brutta scena che c'è dietro Ah Grazie per avermi liberato Ah, eh Così? E prego Vabbè Salviamo va Ok Correre 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 E correre Ok Sono dei pincher quelli lì Mamma mia Ok Aspetta che arrivo anche da voi Arrivo anche da voi Ho detto che arrivo anche da te Bastardo E basta E che è Mamma mia Un attimo di quiete Vai a fare una cura te Oh Sì, sì, sì Certo Che mi faccio prendere Da te proprio, eh Ok Qua ci servirà una chiave O un razzetto Non lo so Ok Andiamo No, non andiamo di là Perché siamo anche tutti da scemi Cazzolina Tutto questo pezzo qua? Vabbè Pazienza Eh, crepa Oh Vabbè Pazienza Pazienza Guardali qua I pincher Eh, piantala Eh, sì Mi sono fatto fregare una volta Mica due, eh Abbiamo lasciato cose? No Pare di no Ok Sparo Cerchiamo di andare di là Eh, sì Sparo Te Che mo Arrivo E sparo io Vedi, è un attimo, eh È un dare per avere Guarda quello quanto è incazzato Eh, vabbè Inca Incazzati meno E spiantala lì Ma c'è un pincher Ok Ok Abbiamo raccattato tutto E ci manca quella cosa lì Che ci sarà una chiave da qualche parte Ho un razzetto Sì, sì Sicuro Che mi faccio prendere Da voi Proprio Da voi Da voi Ho detto Ho una vita Piglia la vita Ok Ehm Ok Andiamo su E vediamo Ah, qua c'è altra roba Tant'altra roba Sì Tant'altra roba Ehm Ci abbiamo lasciato sicuramente cose Perché è troppo breve Ok Intanto liberiamo questo drago Ciao Baccari Ciao Dimmi cose belle Possibilmente, eh Mamma mia Eh, guarda Siamo qua apposta Certo Però mamma mia Sei vecchio Brutto come il peccato, eh Ok C'è ancora qualcosa Che non so dove Ok Non sapevo dove Adesso Spyrucio Lo sappiamo Ok Plannami un po' di lava Ok Visto Ce l'abbiamo fatta Con qualche difficoltà Ma sì Ok Cerchiamo di raccattare Tipo tutto Ci sarà altro No Pare di no No, non vedo altro Quindi livello proseguo da qua Ok Ah Qua è il posto per tornare in su Ok Vabbè Ah, e vedi che c'è ancora Il mondo Eh sì Mi faccio prendere da te Proprio, eh C'ho scritto scemo sulla faccia Non c'ho scritto scemo sulla faccia Vero? No, chiedo per un amico Ok Andiamo avanti Andiamo avanti Andiamo avanti Qua ci sono le due Tartarughe Ah Voglio un po' vedere Se non te piglio Vita 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 Funghi Funghi Fappardelle Sì Oddio Quanto mangierei volentieri Qualcosina di interessante Allora Qua Ecco Vedi Cerchiamo di non fare la fine dell'altro giorno Ok Andiamo avanti E dove cacchio Dove cacchio dovremmo andare Chissà dove dovremmo mai andare Ok Sparuccio Andiamo di là Ecco Un po' meno magari Guardali qua Guardali Guardali E guardali Bruciali Ok Distruggiamo Tiz E che cazzo No Eh scusa Sparx Come cazzo Le affrontiamo Così Ah Così Ho detto Così E dov'è l'altra E dov'è l'altra È qua Ok Quanto vi odio Ok Abbiamo dell'altro Ok A vedere così No Levi da rompere Le palle Oh Torniamo su Vediamo qua cosa c'è La fiera del porco E della bestemmia Oh Una vita Tanta vita Tante vite Tante vite Sì bravo È bravo Ho detto Uh Abbiamo rischiato Tanti Eh sì Allora prendiamo E anche te Eh Oh E che pa Ah e figurati se non ce n'è ancora Ok Fammi fuori Tut Eh beh Ok Falle Aspetta che qua ce n'era una Che c'era vanno a svanire Ah Quella lì uno Ok Il livello prosegue da lì Aspetta Allontaniamoci un secondino Eh sì Mi faccio prendere Da te Da te E da te Ah Ha visto Con le buone maniere Si ottiene sempre tutto Lì abbiamo dell'altro Eh Ok Teniamolo presente Ah Ciao Come stai amico Ecco Non sta benissimo No Dicono di no Ok Vediamo un attimino Disdrago Ciao Aparà 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 Papapapapà Grazie Spyro Vorrei aiutarti a catturare Nesti Ma non vorrei ritrovarmi ancora intrappolato nel cristallo Ma non succederà In trappola ci finirà lui Sì Sicuro Vedremo che casino che scoppia adesso Allora Abbiamo un livello lì Che prosegue Però dall'altra parte C'era ancora roba Tanto pigliamoci in posti qui Piglia tutto Sparks Che hai bisogno di nutrirti Allora Là non ci arriveremo sicuro Quindi Dobbiamo passare per forza da qua Ok E Paffanchiorlo Ma Non è impossibile Ma tutte le volte mi faccio prendere da scemo Eh Sparks Lo so Purtroppo lo so Aspetta Che qua c'è l'altro L'altro Che pensa di essere più furbo di tutti Ma evidentemente Non lo è Ok Proseguiamo Andiamo oltre Vediamo un pochettino Ecco La solita falsata Se non la tiriamo Guaia Ok Distruggiamo tipo tutto E vediamo Uh Ah vedi si Proseguivo da lì Ehm Ok Voi non Non mi impensierite minimamente Perché siete scemi Puzzolenti E avete anche le pulci Ok Dovremmo andare di là Credo di sì At this point Credo proprio di sì Sì Ok Ah e qua c'è un altro draghetto Ok Ciao Ciao Obasi Ciao dimmi cose Bel Minca che brutto che sei Figurati Ok Abbiamo trovato tutti i draghi Wow Ottimo Allora Il livello prosegue anche là Ok Andiamo di qua E vediamo dove Arriveremo Ah e figurati Ok Guarda che t'ho visto lì dietro Sai Sì T'ho visto lì dietro Sei tanto Sei tanto scemo Che lì dietro Non mi puoi fare una ciolla Di nulla Ti invece si puoi farmi qualcosa Ok Brucia quel cacchio di pin Uh Come ho fatto a evitarla Quello non lo so Si è scritto No 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 E no Tornano dietro Scappa un secondo Guardiamoci attorno E No Alla Alla carica Ho detto Ok Speriamo No Non abbiamo concluso tutto Assolutamente Si manca Trovare una chiave E dove cazzo sarà Ok Proviamo a proseguire Da qua Si Dovemmo proseguire Per forza Da qua Ma guarda Dov'era Ma guarda Dov'era E chi L'avrebbe mai visto Pew è la madonna, che è? il problema adesso sarà tornare là? no, no, problema, posso di qua? che problema c'è? fairo o meno, grazie, ottimo, ok, torniamo là, salviamo che, salva, grazie, perché io so già che sbaglio il salto e finisco di sotto, no, invece no, ok, abbiamo trovato tutto, livello completato al 100%, ok, abbiamo trovato tutto, perfetto, ok, dobbiamo tornare a fare i giri strani, stare di là, cosa fai, scemo, ok, spero, per la cronaca stavamo per volare di sotto, ma va bene, non diciamolo a nessuno, ok, e torniamoci nella casuccia, ok, con un lag incredibile, livello completato al 100%, muori, grazie, eh, cosa fai te lì a far l'idiotto che non sei neanche capace, ok, speruccio, ce l'abbiamo fatta, prossimo livello vedremo poi, e ok, per ora fermiamoci qui, anche questo quadro lo abbiamo portato a termine al 100%, sì, soddisfazioni, soprattutto nel morirci come un perfetto idiota, eh, ma dettagli, dettagli, nel prossimo episodio andremo avanti e cercheremo di completare passo passo tutto questo mondo, fino ad arrivare poi al nostro mitico boss finale, ma ce ne vuole ancora, comunque, se il video vi è piaciuto mettete like, condividete, iscrivetevi al canale, fate il tuo caso se volete, tanto a me lo sapete, e noi se vorrete ci vedremo in un prossimo episodio, ciao ciao! Ciao!